Buonasera e bentornati all'appuntamento con l'informazione su Arezzo TV. C'è stata una nuova assalta ad un'azienda del comparto Orafo Aretino. Il comparto torna a chiedere così più sicurezza. Ancora un assalto ad un'azienda del comparto Orafo Aretino. Nelle mire dei banditi, questa volta una ditta di via Chiarini. In gente il bottino con il quale i ladri sono scappati potrebbe infatti sfiorare 300.000 euro. È successo nella notte tra martedì e mercoledì. I malviventi prima hanno messo il sistema d'allarme e poi si sono introdotti all'interno passando da una finestra. Una volta dentro sono riusciti ad aprire con un flessibile due delle tre casse forti presenti. Infine si sono dati alla fuga comunini e oggetti d'oro. Ancora da quantificare con precisione l'ammontare del bottino, anche se dalle prime stime si aggirerebbe sui 300.000 euro. Le indagini sono state affidate ai carabinieri. Lo scorso 17 luglio, a seguito dell'escalation di assalti in aziende Orafo e del territorio, c'era stato un incontro al Viminale al termine del quale era stato garantito il potenziamento dell'attività investigativa, l'invio ad Arezzo di un dirigente del Dipartimento della Pubblica Sicurezza e reparti speciali di Polizia e Arma dei Carabinieri. Il comparto adesso ha chiesto un incontro anche al nuovo prefetto di Arezzo. Per rifare il punto di nuovo su queste famose persone che dovevano arrivare, su questi uomini, su queste guardie, in più a tutela del nostro distretto, del nostro territorio, per capire quanti sono e se sono sufficienti. Ovviamente il nostro distretto si caratterizza da questa elevata dispersione nel territorio di queste zone industriali e quindi c'è bisogno di uomini per fare un controllo del territorio, soprattutto la notte. Ancora cronaca, torniamo a parlare del giallo di via Montanara. Mentre sono attesi i funerali dell'anziana trovata senza vita in casa, la difesa della figlia annuncia la richiesta di perizia psichiatrica, ma la sessantenne è di nuovo irrintracciabile. È pronta a chiedere una perizia psichiatrica alla difesa della sessantenne, figlia di Carla Bazzani, l'anziana trovata senza vita all'interno di un appartamento di via Montanara, nel quartiere di Saione. L'avvocato Barbara Mugnai, che assiste la donna, indagata per abbandono di incapace e truffa ai danni dello Stato, vuole chiedere l'accertamento per verificare le condizioni della sessantenne, che però attualmente è di nuovo irrintracciabile. Il cadavere dell'anziana era stato ritrovato lo scorso 31 agosto in avanzato stato di decomposizione, coperto con un lenzuolo. La morte, secondo i risultati dell'autopsia, sarebbe avvenuta dai 4 ai 6 mesi prima, un tempo nel quale, secondo gli uomini della mobile, la figlia avrebbe continuato a prelevare l'indennità della madre. Accanto all'anziana era stato ritrovato il gatto senza vita. Gli accertamenti veterinari sulla carcassa hanno stabilito che la morte risale 4 mesi prima del ritrovamento, sarebbe deceduto per gli stenti. L'allarme era scattato dopo la segnalazione alla polizia del proprietario dell'appartamento. La figlia, per giorni irrintracciabile, era stata trovata dagli uomini della mobile in un hotel di Rimini. A distanza di un mese dal ritrovamento è ancora attesa la sepoltura. La salma si trova in obitorio all'ospedale San Donato in attesa che si sblocchi la situazione. Il comune comunque è già pronto ad intervenire, ma dietro uno specifico mandato. Infine la procura ha disposto il dissequestro dell'appartamento dove vivevano madre e figlia. I vigili del fuoco di Montevarchi questa mattina sono intervenuti a San Giovanni Valdarno per un incendio che si è sviluppato in una stanza dell'ex hotel River, per il quale adesso sono scattati i sigilli. Chiuso in maniera definitiva l'ex hotel River di San Giovanni Valdarno, ad annunciarlo è stata la sindaca Valentina Vadin nel corso del consiglio comunale. I sigilli agli ingressi dell'edificio, sul quale pendeva un'ordinanza di sgombero firmata dalla prima cittadina lo scorso luglio per gravi carenze igienico-sanitarie e di sicurezza pubblica, sono scattati dopo l'incendio di questa mattina. Le persone che si trovavano all'interno sono state ricollocate, alcune in maniera autonoma, altre trasferite in altra struttura, supportate anche dai servizi sociali, chiuse poi tutte le vie di ingresso e di accesso. L'allarme è scattato questa mattina, torno alle 9.30, quando dalle finestre del secondo piano dell'ex hotel River è stato notato fuori uscire fumo. Siccome c'hanno le bombole di gas e tutto, allora chiamavo viceli fuoco e dopo tre minuti neanche sono arrivati. Meno male, non c'era punti feriti, non c'era nessuno. Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco di Montevarchi per sedare le fiamme e bonificare l'aria. L'incendio sarebbe partito dalle stanze per poi propagarsi all'intero piano. Non ci sarebbero persone comunque rimaste coinvolte né intossicati. Sul posto anche gli agenti della Polizia di Stato, la Polizia Municipale e i Carabinieri di San Giovanni Valdarno. Il 118 è intervenuto questo pomeriggio alle 15.30. Acca prese Michelangelo per soccorrere un uomo di 40 anni ferito da un animale selvatico nei boschi. Soccorso con Pegaso 1 è stato trasportato a Ponte Aniccherina a Codice 2. Ieri sera invece alle 19.15 un incidente stradale in una zona boschiva nei pressi di Valenzano nel comune di Subbiano. Il personale sanitario dell'Asra Toscana Sud-Est è intervenuto per prestare soccorso a un uomo di 86 anni rimasto ferito. Nello schianto è stato portato con l'elissoccorso in Codice 3 al Policlinico Lescotte. Dopo quasi due anni alla guida del comando dei Vigili del Fuoco, l'ingegner Roberto Bonfiglio lascia il capoluogo Aretino per assumere la guida del comando di Grosseto a decorrere dal 30 settembre, giorno in cui assumerà la guida del comando di Arezzo l'architetto Fabrizio Baglioni al suo primo incarico. Questa mattina Roberto Bonfiglio ha salutato la città e tracciato un bilancio dell'attività svolta. E oggi è tornato a riunirsi invece il Consiglio Comunale di Arezzo. Dopo le interrogazioni è stato approvato il bilancio consolidato e illustrato dall'assessore Simone Chierici con 17 voti favorevoli e 8 contrari. Nel corso del dibattito la polemica si è incentrata sull'assenza dell'assessore Alberto Merelli sollevata dal consigliere comunale Menchietti e poi anche da Donati. Il sindaco ha sottolineato che l'assenza è legata al fatto che l'assessore sta rappresentando il comune di Arezzo in un contesto internazionale a Belfast dove sono stati invitati i nuovi sindaci europei. Per quanto riguarda presunti mal di pancia ha poi aggiunto il primo cittadino. Faccio notare che quando si è aperta la verifica del numero legale al conteggio ha partecipato l'intera maggioranza senza defezioni. Il numero legale però non si è registrato nella ripresa pomeridiana dei lavori e la seduta è stata così sciolta. L'amministrazione comunale, in particolare l'assessore Casi, ha annunciato degli interventi anche in via Fraguitone. Sta infatti portando avanti delle verifiche sulle piante per poi valutare il da farsi. Noi abbiamo già incaricato il tecnico che nel periodo estivo ha fatto la verifica visiva. In questo momento sta facendo anche le verifiche proprio sugli alberi uno a uno. Quindi io credo che entro l'anno avremo la verifica dell'agronomo dopo di che decideremo come portare avanti l'intervento. La problematica è quella relativa al manto stradale in via Fraguitone, la strada che da via Petrarca sale sino a Poggio del Sole. La carreggiata è senso unico, costali per i parcheggi su entrambi lati, ma ormai da anni le radici dei pini hanno deformato il fondo stradale. È una zona che da anni purtroppo ha questa gravosa criticità che rappresenta un asfalto che purtroppo a seguito dello sviluppo radicale dei pini che costeggiano la strada ha evidenziato delle disconnessioni. Noi in questo momento stiamo facendo una verifica su tutte le piante che insistono su via Fraguitone, andando ad analizzare pianta per pianta quelle che è innanzitutto lo stato di salute, ma soprattutto quelli che saranno gli interventi che potranno essere portati a termine a seguito della valutazione per dare una risposta concreta ai nostri cittadini. La salute degli alberi è sicuramente la prima cosa, sappiamo che in quel caso andando ad intaccare la viabilità e soprattutto andando a tagliare le radici ci potrebbero essere delle problematiche riguardo alla stabilità di quegli alberi, anche perché ricordo che dalla parte opposta della strada c'è un muro, quindi le radici non si possono sviluppare in quella direzione e quindi di fatto sono sviluppate solo e soltanto verso la viabilità. Quindi a seguito della valutazione il tecnico ci dirà quegli interventi che potremo portare a termine e di conseguenza decideremo su come muoverci per dare sicuramente maggiore sicurezza per la viabilità, ma anche per tutti coloro che passano su quella strada. Le leboline tornano in piazza, non in quelle di Arezzo e Firenze che hanno attraversato il secolo scorso per difendere il lavoro, ma in quella di Fogliano, piazza Cavura, per riflettere sulla storia della lebole e sulle vite dedicate a questa fabbrica. Un appuntamento organizzato dalla SPI CGL per sabato 28 alle 15.30. Con questa iniziativa ricordano vogliamo raccontare cosa ha significato per tante giovani ragazze della Valdichiana negli anni 60 e 70 abbandonare i lavori domestici e la vita di campagna per entrare in una grande fabbrica come la lebole. Questo pomeriggio invece un sit-in pacifico per rimarcare però la ferma volontà dei residenti di Via Sicilia ad Arezzo, ossia quella di dire no all'installazione di un'antenna della telefonia. Gli operai dopo il montaggio del pallone i mesi scorsi sono infatti tornati sul sito a lavorare e la preoccupazione dei residenti è che l'antenna venga presto accesa. Il comitato dei cittadini è sorto questo pari lavori e ha chiesto così con forza al comune di Arezzo di poter fermare questa installazione, in particolare fino almeno che non sia terminato il procedimento di autotutela che deve stabilire se l'autorizzazione per quell'antenna è corretta oppure no. Voltiamo adesso pagina per parlare di salute. Qualche giorno fa è stata infatti celebrata la giornata mondiale dell'Alzheimer e noi abbiamo parlato di questa malattia con il primario del reparto di geriatria del San Donato. Si stima che l'incidenza della malattia stia sempre più aumentando, ad oggi siamo intorno al 15-20% di tutte le forme di demenza. In Italia resta in continua crescita il numero dei malati di Alzheimer, così come in Toscana e Arezzo dove i casi negli ultimi anni sono addirittura quasi raddoppiati. In Toscana si stima che circa 80.000 pazienti sono affetti da demenza, di cui però a questi vanno aggiunti circa 60.000 che sono affetti da una cosiddetta condizione intermedia. Nella zona aretina abbiamo circa 7.000 pazienti colpiti da patologia di Alzheimer. Una stile di vita sano e screening di prevenzione aiutano a contrastare l'Alzheimer. Ci sono dei test sia ematici che del liquor che ci consentono di porre il sospetto della malattia. Il primo movens che deve far sospettare un iniziale di clino cognitivo è la capacità da parte del soggetto di non avere più quelle performance cognitive che aveva prima. Quindi un primo campanello d'allarme è dimenticarsi le varie cose. Di fronte a questa situazione è opportuno rivolgersi al proprio medico di famiglia che sia impostando un percorso all'inizio di tipo diagnostico, ma poi soprattutto deve indirizzare il paziente a quelli che sono i CDCD, cioè i centri per disturbi cognitive e demenza presenti in maniera capillare sul territorio. E questo ci consente di intercettare in fase iniziale la patologia mettendo in atto tutti quelli che sono i sistemi di prevenzione, diciamo innanzitutto cercare di modificare quelli che sono gli stili di vita. Una cura definitiva non esiste ancora, ma ci sono farmaci che possono rallentare il declino cognitivo e migliorare la qualità di vita dei pazienti. Ad oggi noi abbiamo dei farmaci sintomatici, ovvero che vanno in parte a controllare i disturbi in fase iniziale della patologia. Sono in studio alcuni anticorpi monoclonali, ancora siamo agli albori della terapia, perché purtroppo l'ezologia della matologia di Alzheimer è multifattoriale, e quindi non sappiamo esattamente qual è il target e dove agire il bersaglio. L'Alzheimer è senza dubbio una malattia fortemente invalidante con un forte impatto sulla qualità di vita del paziente e di chi la assiste. Per questo motivo l'ASLA Toscana Sud-Est sta potenziando, grazie a fondi europei, i centri per i disturbi cognitivi e le demenze presenti ormai in tutta l'area vasta. Ci stiamo attivando per potenziare anche la figura del neuropsicologo all'interno del Cdcd, a cui si associa anche un cancelling per quanto riguarda il caregiver. Inoltre stanno nascendo delle strutture sul territorio, sia di semi residenziali che residenziali, che consentono in qualche modo di alleviare lo stress ai familiari. Un servizio di prima assistenza alle neomamme da attivare attraverso un semplice messaggio di WhatsApp. L'iniziativa è promossa dall'Associazione Latte di Mamme e verrà simbolicamente lanciata in occasione della settimana mondiale dell'allattamento al via da martedì 1 ottobre, con la volontà di offrire assistenza, ascolto, confronto e consiglia a chi affronta le prime fasi della maternità. Il servizio sarà condotto con un numero dedicato di WhatsApp su uno smartphone che è stato donato dall'azienda Sintra. E adesso parliamo invece di edilizia residenziale pubblica. Domani ad Arezzo un convegno alla Borsa Merci che rappresenterà il cuore dei festeggiamenti dei vent'anni di Arezzo Casa. È indubbiamente una strada che ancora in Italia non è stata abbastanza percorsa, quella della rigenerazione urbana in chiave edilizia popolare. Sarà uno dei temi del convegno che si terrà ad Arezzo in occasione dei vent'anni di Arezzo Casa il gestore del patrimonio ERP dei comuni dell'Aretino che ha voluto una settimana di eventi proprio per tracciare le linee del futuro dell'edilizia popolare. Tutto parte da un vero e proprio allarme lanciato dallo stesso presidente di Arezzo Casa. Sì, questo è un momento storico mai visto prima. Noi ci troviamo per la prima volta senza nessun finanziamento né regionale né statale con i comuni che hanno tutti quanti problemi di bilancio che quindi possono corrispondere in maniera minima e sicuramente non sufficiente per far fronte alle esigenze che abbiamo. Di fatto noi oggi viviamo solo con i nostri canoni e questo è impensabile, è impossibile. C'è bisogno di modificare lo strumento ERP, c'è bisogno di costruire dei finanziamenti strutturati e soprattutto c'è bisogno di fare una progettazione. Serve un piano casa, dopo 61 anni dalla fine del piano casa Fanfani servirebbe immediatamente, non solo nella nostra realtà ma in quella nazionale, un nuovo piano casa e servirebbero delle nuove leggi, dei nuovi provvedimenti che ci dessero la possibilità di fare il nostro lavoro al meglio. Il convegno vedrà gli interventi dei massimi esponenti di livello nazionale e internazionale sul tema e anche dell'architetto Silvia Casi da 20 anni al lavoro in Francia dove sul tema dell'edilizia popolare sono decisamente più avanti rispetto all'Italia. Architetto si guarda all'Europa e in questo caso con il suo intervento alla Francia perché, mi verrebbe da dire, fanno meglio di noi? Allora, se fanno meglio diciamo che fanno sicuramente molto di più il parco di case popolari in Francia è molto più importante rispetto a quell'Italia e ci sono delle concentrazioni in alcuni quartieri che appunto meritano un'attenzione particolare io da 26 anni più o meno lavoro su tutto ciò che è riconquista di questi territori che sono spesso abbandonati dal punto di vista anche dello Stato, sociali ma soprattutto per ridare dignità agli abitanti per ridonare una fierezza di abitare in un quartiere quindi trasformare in quanto architetto urbanista il passo che propongo io è quello di trasformare l'immagine di questi quartieri proprio per dare modo di vederli sotto un'altra ottica e con un accompagnamento poi nelle scuole nel sociale che non può eludere nella trasformazione di un quartiere Quali sono gli ostacoli però in Italia? Allora, in Italia diciamo che l'ostacolo potrebbero essere sormontati senza nessun problema secondo me perché ci sono dei piani europei anche a livello di finanziamento penso che ci voglia un po' di cultura anche della trasformazione siamo abituati noi, siamo bravissimi in Italia a occuparci delle cose antiche del patrimonio che abbiamo molto meno di preoccuparci del divenire del patrimonio attuale costruito da noi quindi secondo me è lì che dovremmo riuscire a intervenire E' morto Pietro Scartoni storico commerciante di Arezzo la sua edicola in piazza Saiacopo è stata infatti per anni un luogo di incontro e socialità A maggio 2023 l'edicola era stata acquistata da Patrizio Bertelli Scartoni la gestiva assieme alla famiglia e non riusciva più a tirare avanti e così il presidente del gruppo Prada la rilevò per impedirne la chiusura alla famiglia di Scartoni le condoianze da parte della redazione di Arezzo TV Cambiamo adesso decisamente argomento l'amministrazione comunale di Foiano assieme all'associazione Carnevale continuano nel percorso di valorizzazione e rafforzamento del Carnevale di Foiano Nei giorni scorsi si sono svolti due appuntamenti importanti da una parte il sindaco Jacopo Franci è stato in visita a Putigliano in Puglia dove ha avuto l'incontro con il sindaco Vinella e ha affrontato i temi legati al progetto della candidatura a patrimonio immateriale unesco dei Carnevali storici e poi il Carnevale di Foiano è stato scelto anche come Carnevale per allestire una mostra fotografica a Foiano la città del Carnevale all'interno di uno spazio delle botteghe dei Carnevali del comune di Gambettola Le Laudie Aretine invece sono state protagoniste di un convegno organizzato dall'Accademia Petrarca Le Laudie Aretine dal XIV al XV secolo protagoniste del convegno e dell'omonimo libro di Dennis Duce studioso di storia medievale un testo presentato nella chiesa di San Domenico scelta per il tema religioso del convegno organizzato dall'Accademia Petrarca è nata dall'interesse che abbiamo provato nel conoscere questa pubblicazione che è del 2024 quindi abbiamo contattato attraverso il professor Liciardello il professor Duce che è stato ben lieto di poterla presentare oggi soprattutto in San Domenico che è un ambiente che si presta magnificamente a questa iniziativa e un particolare della Lauda Aretina è che è un'espressione di spiritualità ma anche un'espressione di culturale politico della città cioè invocazione al Santo Patrono Donato a difendere la città che loro cantavano queste laude durante le processioni non solo nelle chiese oratori loro ma anche per la città nelle processioni e così coinvolgevano tutto il popolo e ci sono delle laude in cui dicono cantate, cantate cittadini arettini per il nostro Santo Patrono Donato la nostra defensione la nostra difesa è stato intitolato a Giuliano Giuliani il parco pubblico di via Giovanni Acuto ieri l'inaugurazione ufficiale dell'area e la svelatura della targa la proposta dell'associazione ora e del museo Amaranto approvata poi in giunta comunale cresciuta da Rezzo i primi passi della carriera li ha mostri proprio nella società Amaranto è sempre rimasto nel cuore dei tifosi una vita da campione la sua ma anche sofferta è una scomparsa prematura a causa di una malattia che lo ha condannato prima alla solitudine e poi all'oblio non è stato però mai dimenticato da quella che era diventata la sua città e i campioni della storia della tennis italiano invece saranno eccezionalmente riuniti al tennis giotto sabato 28 e domenica 29 i campi del circolo aretino ospiteranno la quarta edizione del torneo internazionale King of Clay TPA Open Tour che proporrà due giornate di incontri di doppio disputate da coppie dove un giocatore professionista con un passato dai primi cento del ranking mondiale incrocerà la racchetta con un tennista amatore di alto livello l'evento proporrà una vera e propria parata di stelle di questo sport con alcuni tennisti che hanno indossato la maglia della nazionale in Coppa Davis uniti da una finalità sociale il ricavato verrà devoluto alla Potti Pictures questa per stasera era l'ultima notizia vi ringrazio per l'attenzione arrivederci grazie a tutti Grazie a tutti.